Dalla carabina all'alamaro, dalla daga, la spada storica e ancora la lucerna e al basco. È dedicato ai simboli dell'arma dei carabinieri il calendario 2017 che mese dopo mese ripercorre l'intera storia dell'arma a partire dal 1814, anno della fondazione. I simboli sono quelli conosciuti ai più, a tutta la popolazione, dalla bandoliera alla banda sui pantaloni dei carabinieri, la fiamma, insomma, i simboli più che noti. Sono stati reinterpretati secondo gli stili grafici che hanno caratterizzato i 200 anni di vita dell'arma dei carabinieri. Simboleggiano anche la vicinanza dell'arma dei carabinieri sia alla popolazione ma anche all'evoluzione storico-culturale. della comunità. Un'ultima pagina più che mai significativa di questo calendario. Sì, è un'ultima pagina significativa, riprende anche in questo caso uno stile particolare. Ci sono una serie di doti e di punti d'arrivo dell'etica del carabiniere unificati da una scala caratterizzata dalla lettera E che porta fino alla fiamma del carabiniere, il simbolo principe della nostra arma. Presentata anche l'agenda dei carabinieri 2017. Presentate gli elementi di novità con questi codici QR che permettono all'utilizzatore sia di ottenere delle notizie semplici sull'arma dei carabinieri ma anche sui concorsi, ma anche di ascoltare la musica classica con delle interpretazioni magistrali della banda dell'arma. Grazie. 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 Grazie.